è probabilmente uno dei colpi di calcio mercato che è diciamo più richiesto, tra uno dei più richiesti in assoluto perché la Juventus veramente starebbe iniziando ad avere contatti con un giocatore molto molto interessante salve a tutti ragazzi, sono Mettiti P10, se non l'avete ancora fatto se siete al canale mettete un bel like al video e non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche che vi dà sempre un nuovo avviso ogni volta che esce un nuovo video quindi ogni volta che escerò un video sul vostro cellulare comparirà una notifica pop up che vi informerà dell'uscita del video ma oggi siamo qui per parlare di una situazione veramente molto interessante perché l'anno scorso anche il Di Maria cambia procuratore non ricordo il nome del vecchio procuratore ma il nuovo procuratore si chiama Jorgen Mendes che ormai è una vecchia conoscenza di casa bianconera quest'anno Jorgen Mendes ha chiuso con la Juventus due affari secondo me colossali come quelli che hanno portato Cancelo e Cristiano Ronaldo in bianconero sta facendo per certi versi le fortune della Juventus e questa collaborazione potrebbe appunto continuare perché? Perché ovviamente Di Maria è un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2019 è al Paris Saint Germain ormai da parecchi anni, non ha escluso un cambio di carriera e non ha escluso nemmeno un'esperienza in Italia secondo quanto riportato da calciomercato.com che a sua volta prende da altre fonti straniere Di Maria si sarebbe offerto alla Juventus ma non che Di Maria è andato alla Juve e ha detto guarda prendetemi questo qua no è andato dal proprio agente e ha chiesto se appunto ci fosse un interessamento della Juventus ha chiesto se la Juventus fosse interessata a lui insomma la Juventus sembra comunque molto interessata a Di Maria perché comunque rimane sempre un calciatore molto tecnico un calciatore comunque capace di inventarti quella giocata che può cambiarti la partita tra l'altro è un giocatore molto duttile dal punto di vista tattico perché Di Maria nasce esterno nasce esterno, diventa ala in un attacco a tre poi diventa centrocampista centrale quindi mezza la classica nella decima Champions League conquistata da Real Madrid sotto la guida di Carlo Ancelotti quindi stiamo parlando di un ragazzo secondo me molto molto prezioso perché arriva ad essere un giocatore secondo me è veramente molto molto fondamentale per quella che è la dinamica del gioco del Paris Saint Germain e lo sarebbe secondo me anche nella dinamica del gioco della Juventus ovviamente parliamo sempre di un ragazzo che ha superato una certa età nel senso non è più un ragazzo di vent'anni da cui puoi aspettarti un decennio ad altri livelli ma è un giocatore che è un triennio ancora buono che lo può tranquillamente fare e sinceramente vedere Di Maria gratis alla Juventus perché si parla di un colpo a parametro zero nel 2019 sarebbe veramente un enorme colpo di mercato a mio avviso perché ripeto qualche tempo fa si parlava di Di Maria alla Juve per 30-40 milioni e avevo detto no semplicemente perché quei soldi avrei voluto investirli per altri giocatori ovviamente gli altri giocatori sono arrivati ci sono stati dei colpi di mercato diversi da Cansello a Ronaldo, da Emre Champres a zero con commissioni a 16 a altri colpi tipo Bernardeschi da Clascosta abbiamo speso quello che dovevamo spendere però se c'è l'opportunità di prendere un giocatore come Di Maria che ti salta l'uomo, che sistematicamente ti garantisce un buon numero di gol stagionali che riesce comunque ad essere valido sui calci piazzati che è duttile, che è dal punto di vista del dribbling un dribblatore nato a zero ebbè quello lì ragazzi è come trovare praticamente le scritte dei grandi saldi all'interno dei grandi negozi di Gucci, di Vogue eccetera è una cosa che non capita una volta sola nella vita quindi dobbiamo assolutamente andare a prendere questo ragazzo se ci sono gli estremi economici di andare a prendere questo ragazzo quindi ovviamente mi aspetto da parte della Juventus una presa di posizione quindi mi aspetto che la Juventus vada diretto alla fonte di tutto questo quindi deve andare direttamente da Mendes e deve cercare di capire se c'è un margine di trattativa poi ovviamente non vi sto dicendo che andiamo a prendere un giocatore tra i più forti al mondo perché Di Maria è già un paio d'anni che comunque non ho il coraggio di definirlo in calo perché comunque uno come Di Maria in calo tecnicamente non sarà mai però comunque non è più ai livelli di qualche anno fa non sono io che lo dico, sono le sue prestazioni che lo dicono anche al Mondiale non ha brillato nonostante ha giocato praticamente sempre il titolare con l'Argentina però secondo me alla Juventus in chiave tattica e in chiave tecnica potrebbe fare veramente molto bene volevo sapere da voi che cosa ne pensavate perché so che tra molti di voi ci sono delle persone che amano Di Maria cioè molti di voi mi hanno scritto tanti mesi fa quando si parlava di quell'interessamento Matt ma com'è possibile tu non vuoi spendere 30 milioni di euro per Di Maria? no ragazzi non li voglio spendere perché preferisco andare a spendere 47 per Douglas Costa ecco qual è il mio discorso perché voglio gente più giovane, voglio gente che può assicurarti un numero di stagioni a altri livelli maggiore ma se Di Maria è un'occasione che viene a zero alla Juventus anche se ci devi aggiungere qualche piccola commissione per arrivare a 5-10 milioni di euro agli agenti secondo me è un colpo di mercato da non sottovalutare fatemi sapere nei commenti